Giustino Di Muzio, in forza allo sfoltore, fermo ai box, come sono stati questi mesi all'Accademia? Sono stati dei grandi mesi, ho avuto l'opportunità di imparare tanto, di confrontarmi con dei grandi preparatori, di confrontarmi anche con dei miei compagni di squadra, di reparto, abbastanza validi e sono proprio felice di questa esperienza. Per quanto riguarda i preparatori, Gabriele Aldegani com'è? Gabriele è un grande preparatore. Il tuo soprannome è Cinghiale, giusto? Sì, è un grande preparatore, è molto preparato, si vede che ha avuto dei grandi preparatori e soprattutto in ogni parata ci dà parecchi consigli, anche 3-4 a volte, che sono molto importanti e che poi alla lunga ci fanno fare la differenza in una partita importante. Chiudiamola con l'episodio più curioso, più divertente? L'episodio più divertente è quando Aldegani, Gabriele, ci bazza, quando sbagliava ci fa... Ci bazza? Bazza, sì. E con Giustino, Cinghiale di Muzzi e tutto. Sì. Un saluto. Buona sera a tutti, ciao.